Allora, vedete la dividenza? Io devo vedere questo! Questo è di Lisa! Questo è il più piccolo! Questo è il più piccolo, la mia sorella! Ricordate ragazzi che il violino è uno strumento molto sensibile, bisogna fare sempre attenzione! Ok? Sempre! Sempre! Vi vedete i vari violi? E tu vuoi questo? E tu vuoi questo? Allora, io prendo tutto! Per accordare il violino è questo! Ok! Invece per la porta, questa qua che si chiama... Guarda bene! Guarda bene! Questa porta dove va? Qua! Ecco! Fino qua! Quindi? E poi questa! 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 Bravissimi tutti! Bravissimi! Gravissimi! La pece messa, Rianna! O la puoi attenzione! Che c'è? Adesso? Questa! Che c'è? 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 bravissime che bello magnifico applauso bravi uno due tre e quattro bravissime prima come facciamo io ci riesco io ho solo tre anni bravissima questo è il meglio video brava Lisa finito il concerto? grazie a tutti Grazie a tutti.